Sono Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria. Oggi vi vorrei introdurre a una delle più importanti e più belle opere della nostra collezione, la grande croce del Maestro di San Francesco, che proviene dalla chiesa di San Francesco al Prato, una delle chiese francescane più importanti del Medioevo. La croce era una delle classiche crux de medioecclesia, quelle croci che si situavano davanti all'altare in alto, sopra ad una trave, proprio in asse con l'altare. Il modello di questa croce, che è datata 1272, è quello di Giunta Pisano, che aveva realizzato proprio per San Francesco ad Assisi. Di quella croce non abbiamo, se non una memoria, perché è andata distrutta, la nostra invece è in ottime condizioni. Dal punto di vista dello stile, è davvero una croce che risente molto di Giunta Pisano e in qualche maniera prelude a Cimabue. È una miniatura di quasi 5 metri d'altezza, tanto è raffinata e tanto è anche ben conservata la pittura, in modo che si possa davvero apprezzare la qualità del segno e anche dei piccoli decori. Ma è anche molto importante dal punto di vista dell'iconografia, perché presenta nel soppedaneo la figura di San Francesco inginocchiato in adorazione delle ferite. San Francesco mostra le proprie stimmate e a partire da questa croce, da questa data, 1272, appunto, tutte le croci francescane presenteranno la figura di Francesco in adorazione delle ferite del Cristo. È in qualche maniera una consacrazione, una consacrazione dell'accettazione da parte della Chiesa e di tutti gli ordini, soprattutto i Domenicani, della veridicità, della stimmatizzazione di Francesco. C'è scritto in fondo alla parte terminale della nostra croce che quest'opera è stata realizzata nel 1272 al tempo di Gregorio Apa, Gregorio X. Gregorio X fu colui che conciliò il conflitto tra Domenicani e Francescani e fece accettare ai primi, appunto, le stimmate di Francesco. Ovviamente ebbe anche molta fortuna, oltre che molta capacità, perché trovò da una parte San Bonaventura da Bagno Reggio e dell'altra San Tommaso d'Aquino. Quindi possiamo in qualche maniera concepire la nostra croce come un manifesto teologico che consacra la stimmatizzazione di Francesco e la facce accettare a tutta la Chiesa.